Mi chiamo Kikibu Lasedu, sono la direttrice dell'ente ellenico per il turismo. La Grecia è aperta ai nostri turisti già ufficialmente dal 14 di maggio. Siamo un paese covid safe, siamo un paese sicuro e stiamo aspettando per accogliere i nostri turisti. La Grecia ha delle regole da seguire, una novità è che si può entrare in Grecia anche con un rapid test da oggi, dal 17 di giugno. Rapid test non solo molecolare PCR ma anche rapid test e l'età non da 5 anni come era fino a ieri ma da 12 anni in poi. Anche i vaccinati senza tampone possono venire. Il PLF, non dimenticate il PLF di compilare prima del viaggio. La Grecia ha gestito fino adesso molto bene la pandemia, ha gestito anche il turismo e così è pronta per accogliere i suoi turisti. Quello che vogliamo per i turisti è che loro vivano la loro esperienza in Grecia. La nostra campagna è All You Want Is Greece. Tutto quello che voi, tutto quello che volete lo potete trovare in Grecia perché la Grecia può offrire tutto a tutti, a tutti i suoi turisti. Le famiglie, i giovani, di terza età persone, la comunità LGBT, gli amanti della natura, gli amanti della cultura e della storia, gli amanti delle attività outdoor. Tutto quello che volete lo potete trovare in Grecia perché la Grecia offre esperienza, la Grecia offre autenticità. E quello che ci rimane dalle nostre vacanze è questa cosa qua, gli usi, i costumi, la bellezza della Grecia. La Grecia non è solo mare e sole, sì, la Grecia è sole e mare, ma non solo questo. In Grecia si può trovare tutto. Vi aspettiamo tutti!